Il progetto Cavarei è la nuova cittadella del buon vivere nata su una concessione di terreno di proprietà del comune di Fornì. È una costruzione ecosostenibile, completamente in legno, all'interno di un parco pubblico, realizzato e creato con la progettazione partecipata della comunità, dei lavoratori e dei soci della cooperativa. Il progetto Cavarei è un luogo dove i servizi tradizionali per la disabilità, quindi i centri diurni, socio-occupazionali, socio-riabilitativi, diventano attività commerciali all'interno del centro stampa, all'interno del negozio del tocco d'artista, il conto lavorazione terzi per le aziende, la nuova stanza Snowden delle attività multisensoriali e il nuovo nato del Cavarei Lab, l'officina digitale. Attraverso le attività all'interno degli spazi di Cavarei, le abilità dei nostri ragazzi vengono messe a disposizione della comunità. Nuove aziende, nuovi contatti sono stati creati e attraverso le aziende e attraverso le relazioni con le attività produttive del territorio il progetto si è sviluppato. Il Cavarei prende lo spunto dal Pantarei del tutto scorre, perché tutto è innovativo all'interno di Cavarei. Diciamo che abbiamo realizzato un'innovazione rispetto al processo che utilizziamo per creare relazioni.